La mia mercenaria preferita. Ti do il benvenuto a Doctown. Ho un lavoro per te, V. Ti ho mandato le coordinate. Sai cosa fare? Munizioni, fucili d'assalto, attrezzatura tattica. Hans, vorrei comprare un'arma. Niente convenevoli. Wow, fantastico. Ok, ci siamo. Farti overcloccare il cromo prima dell'incontro. Bella idea. Ok, facciamolo. Diamo inizio alle danze. Ok, facciamolo. 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 Missione compiuta. Magnifico lavoro, V. Chiudo il contratto e ti mando un piccolo bonus. Qualcosa che ti faccia tornare a casa sana e salva. Qualcuno ha sguinzagliato un cacciatore. Buona fortuna. Cazzo, arriva! Fuoco finché non stramazza! Abbiamo un problema con un Netrunner. Mi servono subito rinforzi! A tutte le unità vicine abbiamo un problema a Watson. Ricevuto, centralino. Ci muoviamo. La polizia di Night City. Porca puttana. Le tue azioni sono illegali. Sai cosa penso? Ora si ragiona. La Magstack! È ora di tagliare la corda! Cazzo. Per un pelo. Complimenti, V. Mi auguro che questa non sia la fine della nostra collaborazione. Avrei presto mie notizie. Te lo garantisco. Grazie a tutti. Cazzo. Riccardo. Cazzo.